Come annunciato dall'amministrazione comunale terramana, il 2023 rappresenta l'anno dei cantieri, tra questi anche quelli per le scuole. Entro fine mese infatti sono attesi due progetti definitivi destinati ad altrettanti edifici scolastici. Il primo da 1,3 milioni di euro riguarda l'ampliamento del micronido nel parco fluviale del Vezola. Il secondo finanziato con 800 mila euro interessa il completamento del polo scolastico di Villavomano tramite la realizzazione di un nuovo edificio. Abbiamo partecipato ad un bando, abbiamo avuto un finanziamento per l'ampliamento, la ristrutturazione, l'argomento sismico del micronido sul parco fluviale e anche una nuova scuola dell'infanzia a Villavomano. Sono due importanti progetti che nel giro di poche settimane arriveranno i progetti definitivi e quindi poi si procederà a legare nel più breve tempo possibile. In entrambi i casi si tratta di progettazioni già in fase molto avanzata. Infatti per aprile, stando ai tempi calcolati dall'amministrazione cittadina, è previsto l'avvio dell'intervento che interessa Villavomano. Per l'ampliamento del micronido sarà un po' più lungo perché sarà un apparto integrato e quindi ci sarà una fase di progettazione esecutiva che dovrà fare la ditta che si aggiudicherà la gara. Però ci sarà una quantità di cantieri aperti, oltre a quelli del sismo, oltre a quelli che già abbiamo aperto per il PNRR, che sarà veramente palpabile il cambiamento della nostra città, un cambiamento in positivo, una visione, una progettazione, una programmazione che sicuramente negli ultimi 50 anni non sarà mai verificata. Quello del micronido è un intervento molto atteso in città perché permetterà di incrementare il numero di posti disponibili. Questa è una risposta che sicuramente va verso quella direzione e che ci consente di poter dare ai nostri concittadini delle aspettative migliori rispetto al passato. Sono piccoli segnali, non è che cambiano totalmente e radicalmente la quantità di posti che avevamo già a disposizione, però sicuramente li vanno ad ampliare ed è una nota positiva rispetto a tante altre note negative che si leggono tutti i giorni a livello nazionale. Grazie.